Buongiorno a tutti, sapete sono venuto soltanto per l'applauso, perché non sono più abituato e dunque il fatto di essere qui a Breganzona e come tornare a casa e sentirsi bene accolto fa sempre piacere, grazie, grazie di cuore. Questa mattina io vorrei leggervi due versetti che troviamo nell'Epistola ai Colossesi, Epistola ai Colossesi capitolo 1, i versetti 12 e 13. Colossesi 1, 12, 13 Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha portati o trasportati nel regno del suo amato Figlio In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati L'Epistola ai Colossesi è un'Epistola molto bella, molto ricca di insegnamenti e specialmente in questa epistola Cristo viene posto al centro In Colosse giravano, circolavano delle false dottrine e Paolo scrive da Roma durante la sua prima prigionia a Roma e cerca di mettere le cose al posto giusto E in questa lettera ci presenta Cristo come il Salvatore Quello potete vederlo in versetto 13, 14 Il Signore della creazione è Lui che ha creato ogni cosa Viene posto qui l'accento su Cristo come il capo della Chiesa Cristo viene presentato come il centro di ogni cosa Colui che riconcilia il cielo e la terra E poi ci presenta un Cristo in cui c'è tutta la pienezza La pienezza della divinità e così via Dunque è un'Epistola molto ricca di insegnamenti Che ci fanno bene di ricordare Che in fondo la nostra vita senza Cristo è una vita vuota E abbiamo bisogno di Lui E Cristo è il centro e deve rimanere il centro della nostra vita E dobbiamo avere una relazione personale con Lui Questa mattina io vorrei presentarvi brevemente Almeno spero di essere breve Tre verità importanti Queste verità che riguardano il nostro passato Verità che riguarda il nostro presente E che riguarda, che concerne anche il nostro futuro Abbiamo letto Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre E' un po' quello che abbiamo sentito all'inizio da Silvia Ero cieco e ora ci vedo Ci sono queste due dimensioni del passato, del presente E poi c'è quella del futuro Non so quanti di noi siano nati in un altro pianeta Chi di voi è nato su Marte, su Saturno, su Giove? Qualcuno? Nessuno? Siamo nati tutti in questa terra Probabilmente non tutti a Breganzona Non tutti nel Ticino Non tutti nella Svizzera Però facciamo parte di questo mondo E Gesù disse che il principe di questo mondo E' Satana E dunque tutti noi che siamo nati in questo mondo Siamo nati sotto il dominio di un padrone cattivo Siamo nati sotto il dominio di Satana E il Nuovo Testamento ci afferma Che l'uomo per natura è schiavo del peccato Romani 3.23 Un testo chiave Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio E questi tutti sono tutti Non alcuni in particolare Ma tutti quanti Tutti coloro che sono nati su questa terra Vivono sotto il dominio del peccato Sotto il dominio di Satana E sono schiavi E noi eravamo anche schiavi E abbiamo vissuto sotto questo potere Questa autorità negativa Ma tramite il perdono dei nostri peccati Siamo stati liberati Siamo stati salvati Dunque non viviamo più sotto il dominio Del principe di questo mondo Ma siamo stati trasportati Nel regno del suo amato figliuolo Allora questa è la realtà Dei figlioli di Dio Che noi facciamo parte del regno di Dio Siamo figli di Dio Viviamo per lui Però malgrado questa eccezionale realtà Non tutti vivono nella vera libertà Dei figli di Dio E ognuno di noi penso indistintamente Ha un passato E' vero? Può essere un passato bello Bello da ricordare Ma anche un passato forse meno bello Che non ci piace più tanto ricordare E purtroppo molti sono le vittime Del proprio passato Del proprio vissuto Allora c'è chi cerca di rinnegare il proprio passato Cercare di dimenticarlo Di non mai pensarci Mettere una pietra su Però facilmente questa pietra può essere spostata E quello che c'è sotto viene alla luce E c'è tutto un mondo che si muove E che ci dà fastidio Non è bello ricordare a volte Delle esperienze negative del passato Che solo il ricordo ci fanno stare male Però ogni tanto è importante guardare Nel retrovisore della vita E' vero come nella macchina ne abbiamo tre Uno dentro e due fuori E non bisogna sempre guardare indietro E' vero perché se si guarda solo indietro Si rischia di schiantarsi a qualche parte E' importante guardare davanti Ma ogni tanto dare uno sguardo indietro E questo è veramente importante Ogni tanto porsi la domanda Ma com'era la mia vita Prima di conoscere Gesù Prima di avere affidato la mia vita al Signore Com'era? Come vivevo io? Ero felice? Appagato? Soddisfatto? Generalmente se ci si converte a Cristo E' perché prima La vita di prima Non era così bella Non si viveva nella piena libertà Del figlio di Dio Era la schiavitù Ed è un po' la stessa domanda Che Paolo porse agli Efesini Nel capitolo 2 I primi versetti sta scritto Dio ha vivificato anche voi Che eravate morti nelle vostre colpe Nei vostri peccati Ai quali un tempo vi abbandonaste Seguendo l'andazzo di questo mondo Seguendo il principe della potenza dell'aria Di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli E poi dice Nel numero dei quali Anche noi tutti Vivevamo un tempo Secondo i desideri della nostra carne Ubidendo alle voglie della carne Dei nostri pensieri Ed eravamo per natura Figli d'ira Come gli altri Ma Dio che è ricco in misericordia Per il grande amore con cui ci ha amati Anche quando eravamo morti nei peccati Ci ha vivificati con Cristo E per grazia Che siete stati salvati E ci ha risuscitati con Lui E ci ha fatti sedere Nei luoghi celesti In Cristo Gesù Paolo qui ci dice Voi eravate morti Nei peccati Nei falli Vivete lontano da Dio Eravate schiavi del peccato Questa era la nostra posizione Prima di conoscere Gesù Ma purtroppo Molti pur essendo stati salvati Da Cristo Gesù Vivono ancora nella vita passata Vivono nel passato Sapete io ho avuto L'occasione di essere pastore In diverse comunità In vari posti E in una delle mie comunità C'era un fratello anziano Che frequentava regolarmente la comunità E lui durante la seconda guerra mondiale Era stato fatto prigioniero In Grecia E ogni volta Che parlavo con lui In qualsiasi occasione Sia che andavo a trovarli a casa Sia che quando veniva al culto In qualsiasi momento Dopo una frase O due Dopo il saluto Lui era ancora in Grecia Nella prigione E questa sua esperienza Era la sua vita Lui viveva ancora Nel passato Remoto E' importante Di non vivere Nel passato Ma di vivere La realtà presente Che è quella nostra E' importante Non dimenticare Chi eravamo Come vivevamo Per poter essere Riconoscenti Ancora di più Al Signore Per quello che Lui ci ha dato Per quello che Lui ha fatto Per noi E di vivere In un modo cosciente La nostra vita Presente Sapete In Germania C'era un ricco uomo Da fare Dopo la seconda guerra mondiale Anche quella Che costruì Che costruì Un grande Orfanotrofio E così Quando Accettavano Dei bambini Orfani Che venivano In questa In questo suo Centro La prima cosa Che faceva Faceva loro Una foto Che conservava E questa foto Non era bella Da vedere Perché i bambini Erano Sudici Sporchi Erano Con vestiti Strappati Erano Affamati E quando Qualche tempo Dopo I bambini Dimenticavano La loro Condizione Il direttore Andava a prendere Quelle vecchie Foto E glieli Presentava E diceva Tu eri così Quando Sei arrivato Qui E oggi Se tu sei Ben vestito Se sei In buona Salute Se tu Sai Leggere E scrivere E grazie A quello Che io Ho fatto Per te Quante volte Magari Dimentichiamo Come eravamo Prima Di conoscere Il Signore E molto Facilmente Ci si può Inorgoglire E pensare Che siamo Migliori Degli altri Ma in fondo E' buono Ricordarsi Come eravamo Una volta E che possiamo Veramente Essere Grati a Dio Per quello Che ha fatto Ed essere Misericordiosi Anche Anche Verso Gli altri Ci sono Persone Che vivono Ancora Nel passato E che il presente Non è il presente Per loro E poi ci sono Persone Che sono Prigioniere Del passato Il passato Le esperienze Negative Del passato In particolar modo Possono Diventare Una prigione Che non ci Permettono Di uscire E di essere Liberi E di vivere La vera Libertà I propri Errori La propria Disubbidienza Le esperienze Che abbiamo Potuto fare Possono Tormentare La nostra coscienza E non Permetterci Di vedere Oltre E di rimanere Legati Al nostro Passato C'erano Alcuni Amici Che Il venerdì Sera Vollero andare Dall'altra parte Del lago Con una barca A remi Per passare La serata Con degli amici E così E così Fecero Tardi La sera Mi sa che forse Avevano bevuto Un po' troppo E poi Vollero tornare A casa Dall'altra parte Del lago Non so se era Lugano E così Questi amici Salirono Sulla barca E si misero A remare Con tutte Le loro forze Dopo un'ora Circa Uno di loro Dice Ma Saremmo Già dovuti Arrivare All'altra Sponda Un altro Dice Ma magari Non abbiamo Remato Abbastanza E così Si misero A remare Ancora più Energicamente E dopo Un po' di tempo La riva Non si vedeva Ancora E si dissero Non abbiamo Remato Abbastanza E ancora Con tutte Le loro forze Le loro energie Incominciano A remare Per arrivare All'altra Sponda E poi Pian piano Incominciò A far giorno E la loro Sorpresa Fu grande Nel rendersi Conto Che erano Ancora Al punto Di partenza Avevano Dimenticato Di sciogliere E la corda Che li teneva Legati Al molo Quante persone Oggi Sono ancora Legati Al molo E che cercano Di dimenticare Il passato Cercano Di vedere Oltre Di andare All'altra Sponda Di vivere Qualcosa Di nuovo Ma c'è Quella corda Che li tiene Legati Al passato E che non Gli permette Di andare Avanti Malgrado Tutti Gli sforzi E poi Magari c'è Chi rimpiange Il passato Gli israeliti Nel deserto Piangevano Si lamentavano Pensavano All'Egitto Erano usciti Dall'Egitto Erano lontani Ma l'Egitto Era rimasto Nel loro cuore E vivevano Di ricordi Rivevano Di nostalgia Ah L'avevamo Le pentole Piene di carne C'era L'aglio La cipolla A chi piace? Buona Vero? E loro Si lamentavano Rimpiangevano Il passato E questi Rimpianti Possono essere Un ostacolo Enorme Nella nostra vita Sapete Tante volte Vorremmo poter Anche Rivivere Il passato Specialmente Nelle belle Esperienze Mi è capitato Di ritornare Al punto Dovero Da dove ero Partito Io sarei Voluto Ben Volentieri Tornare A Schaffusa Perché è stato Un periodo Florido Stupendo E avrei Voluto Ho cercato Di farlo E sono Grato Al Signore Che quello Non è accaduto Non possiamo Vivere Di ricordi E rimanere Ancorati Non vuol dire Non vuol dire Che dobbiamo Dimenticare Tutto Perché in fondo Noi siamo il frutto Del nostro passato In parte E le esperienze E le esperienze Passate Positive Negative Ci formano Hanno un valore Nella nostra vita Ma l'importante È non essere schiavi E di non essere Dipendenti Dal nostro passato Perché Dio Ha di più E ha qualcosa Di nuovo Che ci vuole dare Dio è colui Che fa Ogni cosa nuova Che perdona Le nostre colpe Che cancella Il nostro passato Negativo A me piace tantissimo Il Salmo 103 Che Ci apre Il cuore Di Dio Se leggiamo Solo Alcuni versetti Il versetto 10 13 Ad esempio Egli non ci tratta Secondo I nostri peccati E non ci Castiga in proporzione Alle nostre colpe Al nostro passato Come i cieli Sono alti Al di sopra Della terra Così è grande La sua bontà Verso quelli Che lo temono Come lontano L'Oriente Dall'Occidente Così ha egli Allontanato Da noi Le nostre colpe Come un padre È pietoso Verso i suoi figli Così è pietoso Il Signore Verso quelli Che lo temono Alleluia È meraviglioso È vero Poter sperimentare Il cuore di Dio Vivere in questa dimensione Che non è la dimensione Della schiavitù Del peccato Ma è della libertà Dei figli di Dio Quelle persone Che sono state liberate Dio ci ha liberati Dio ci ha liberati Dal potere Delle tenebre Dalla schiavitù Del peccato Delle vecchie abitudini E ci ha condotti In una nuova posizione In un nuovo rango Ci ha elevati E così arriviamo Alla seconda verità Dio ci ha liberati Dal potere Delle tenebre E ci ha trasportati Trasportati Nel regno Del suo amato Figliuolo Alleluia Abbiamo cambiato rango Non siamo più legati Alla schiavitù Del peccato Cristo ci ha Innalzati Ci ha elevati Una nuova posizione Ci dà Una posizione sociale Una posizione spirituale Un grado elevato Ci innalza Ci eleva Non siamo più Alla dimensione Dei piedi Ma diremo Della testa Egli Ci ha trasportati Non ci siamo andati Noi con i nostri piedi Ma ci ha trasportati E' lui Che ci ha Strapati E portati In questa Meravigliosa Dimensione Così se siamo stati Salvati Da Gesù Non abitiamo più Nello stesso posto Non abbiamo più La medesima Residenza Che avevamo prima Abbiamo traslocato Lo sapevi Non abiti più Nello stesso posto Abitiamo in un posto elevato Meraviglioso Glorioso Dove possiamo vedere La gloria di Dio Magari Possiamo pensare Sì E' bello Però sarà per il futuro Questo Perché Ancora siamo uomini Sbagliamo Abbiamo i nostri limiti Abbiamo i nostri difetti E così via Ma il testo ci dice Che ci ha Trasportati Dunque ci vuol dire Qualcosa che è già Avvenuto E questo è avvenuto Per me Per te Per noi Ci ha Trasportati Se siamo Figli di Dio Viviamo Nella sua Dimensione In una nuova Dimensione La dimensione Dei figli Di Dio Io amo tanto Secondo Corinzi 5 e 17 Sicuramente Lo conoscete Tutti quanti A memoria Però non vi metto Alla prova Non è un esame Stamattina E Paolo diceva Ai Corinzi Se dunque Uno Una E in Cristo Egli Diventerà Una nuova creatura E' vero? Ah bravi Egli è E' una realtà Adesso Le cose vecchie Sono passate Non dice passeranno Ma sono passate E tutte sono Presente sempre Diventate nuove Viviamo nel presente Viviamo in questa realtà Che Cristo Ha cambiato La nostra esistenza Ci ha dato Una vita nuova Una nuova posizione Assumiamo Un nuovo rango Elevato Abbiamo Abbiamo Una nuova natura La natura Di Dio Di Cristo E' in noi Abbiamo Una nuova Identità Abbiamo Una cittadinanza Celeste Abbiamo Il passaporto In ordine Per l'eternità Abbiamo Abbiamo Una nuova posizione In Cristo Gesù Abbiamo ricevuto Un nuovo linguaggio Una nuova lingua La lingua Del regno Di Dio Siamo perdonati Purificati Lavati Dal sangue Di Cristo Abbiamo Una speranza Abbiamo Vita Eterna E ancora Di più Per il presente Abbiamo Ricevuto Autorità Pieno Potere Sapete Nel nuovo Testamento Ci sono Tre termini Che esprimono Il concetto Di autorità Il primo E che è L'autorità Spirituale Intendiamoci E' la parola Dynamis E qui la troviamo Almeno Centodiciotto Volte Nel nuovo Testamento Che si riferisce A questa forza Interiore In noi Le capacità Se leggiamo Atti 1 8 Giustamente Si Gesù Disse ai discepoli Prima di salire In cielo Ma voi Riceverete Potenza Quando lo Spirito Santo Verrà su di voi E mi sarete Testimoni Dunque Voi Riceverete Dynamis E anche la parola Dynamite Che viene O dynamo Che viene Da questo Termine Voi Riceverete Questa Forza In voi Questa Capacità Che vi Renderà Capaci Di essere I miei Martiri Di essere I miei Testimoni Tu Hai Questa Capacità Se Cristo Abita in te Tramite lo Spirito Santo E dunque Potrai Anche Testimoniare Potrai Essere Un messaggero Di Cristo Perché Lui ti Dà Questa Forza Questa Autorità Per farlo Il secondo Termine Per Autorità E Il termine Exusia E questo termine Significa Autorizzazione Privilegio Compito Compito Missione E in Luca 10 Dove viene usato Questa parola Exusia Versetto 19 Di Luca 10 Ecco Io vi ho dato Io vi ho dato il potere Ciò vuol dire L'autorizzazione Il privilegio Il compito E la nostra missione Di camminare sopra serpenti e scorpioni E su tutta la potenza del nemico E nulla potrà farvi del male Questa è l'autorità Affidata Ai suoi discepoli Ai figli di Dio Tu hai l'autorizzazione Il privilegio Il dovere Il compito Di usare questa autorità E di manifestare la potenza di Dio Nella tua vita Sapete il poliziotto Che Che si incontra Per strada All'autorità del governo E dunque come tale Se lui Alza la mano Il tir più pesante Si ferma Non perché lui Ha i muscoli Alla forza Ma all'autorità All'autorizzazione Il diritto di farlo E così anche noi Siamo autorizzati Abbiamo la patente Sapete il fatto di avere la patente Non ci obbliga a guidare Noi possiamo avere la patente E non guidare Però se hai la patente Tu sei autorizzato A metterti al volante E di andare dove vuoi E poi la terza parola Che troviamo Nel Nuovo Testamento È la parola Tronos Che vuol dire Trono Sedia E in Efesini 2.6 Che abbiamo già letto Sta scritto Che ci ha risuscitati Con lui E ci ha fatti Sedere Nei luoghi celesti Non ci farà sedere Ci ha fatti sedere Come voi siete già seduti E così Nel mondo spirituale Noi siamo seduti con Cristo E chi è seduto All'autorità Pensando al re Il re può rimanere seduto E dal suo trono Ordinare Usare Della sua autorità Reale Mentre i sudditi Si inchinano Davanti a lui E noi abbiamo ricevuto Questa dignità Reale Questa autorità Divina Di poter Agire Nel nome del Signore E tante volte Non siamo sempre Coscienti Di questo privilegio Che è il nostro E a volte La nostra vita Assomiglia più A quella di un menticante A livello spirituale Dove noi Gridiamo Preghiamo Signore dai Fai Perché non fai Questo e quest'altro Se vediamo la vita di Gesù Naturalmente potremmo dire Gesù era Gesù Era il figlio di Dio Però Lui è il nostro esempio E Gesù non supplicava mai Il padre Ma dava ordini Era cosciente Della sua missione Della sua autorità E ordinava Al vento Alla tempesta E la tempesta Si calmava Non pregava Signore Fa che la tempesta Si fermi Che il lago Diventi calmo No? Ma ordinava I venti E i discepoli Erano sorprese Ma sgrida Anche i venti E ubbidiscono Alla sua parola Oppure Pietro e Giovanni Magari quello è più Alla nostra portata Pietro e Giovanni Davanti alla porta Del tempio Detta la bella Che c'era questo Paralitico Da 40 anni Là Che chiedeva L'elemosina Pietro vide Che il Paralitico Guardava lui E si aspettava Qualcosa da lui O da loro E Pietro e Giovanni Cosa fanno? Dicono Signore ti prego Cerca di fare qualcosa Per questo poveraccio Che è sempre là Davanti la porta No? Dice Pietro va da lui E gli dice Oro e argento Io non ce n'ho Non ho niente Però Gli prese la mano E gli disse Nel nome di Gesù Alzati E cammina Vediamo qui Che Pietro e Giovanni Agiscono Con autorità Direttamente E forse è qualcosa Che possiamo imparare Ancora Ciò non vuol dire Che Arriveremo sempre A fare tutto Quello che vogliamo Che potremo cambiare Il mondo Attorno a noi No Ma io penso Che Dio voglia Servirsi di noi E vuole che noi Prendiamo coscienza Della nostra Nuova posizione Del nostro rango E che noi Usiamo Quest'autorità Spirituale Nel mondo Spirituale Che possiamo Cacciare i demoni Nel nome di Gesù Che possiamo anche sanare I malati Nel nome di Gesù Io ho fatto Questo mese di gennaio Una bella esperienza Che magari Per alcuni Può essere Una coincidenza Però Io credo poco Alle coincidenze Io credo Alla guida Del Signore Credo Che la nostra vita È sotto La sua guida E che Lui È un Dio fedele E che agisce E interviene In favore Dei suoi figli Allora Lunedì 8 gennaio Mia figlia Aspetta Il secondo bambino Dunque fra poco Sarò nonno Per la seconda volta E era andata Al controllo medico E la dottoressa Era allarmata Perché tutto faceva Pensare A un inizio Di avvelenamento Dunque pressione alta Albume nell'urina E così via Così la mandò Subito in ospedale Per fare Tutti gli analisi E lei mi ha scritto Due ore dopo Dicendomi Sono in ospedale Stanno facendo Tutti i controlli E prima La pressione Del sangue Non era Era troppo alta Adesso Era normale E dice Sto aspettando I risultati Del laboratorio Un'ora dopo Scrive E' tutto Ok E' tutto In ordine E il giorno Seguente Va di nuovo Al controllo E la dottoressa Era completamente Sbalordita Non capiva Come mai Tutto questo Cambiamento Allora che tutto Faceva pensare Al peggio Non c'era Niente Di niente E il lunedì Quindi ci andrò Di nuovo Al controllo Tutto Ok E ancora Giù vi discorso Al controllo Tutto Ok Quando lei mi ha scritto Di questo E ho detto Non ti preoccupare Noi usiamo L'autorità Spirituale Che Dio Ci ha dato E così Io ho ordinato Nel nome Di Gesù Che tutti i valori Siano normali Che la situazione Cambia E che io Non accettavo Quella Ciò che il medico Aveva detto Per qualcuno Può essere Solo Un caso Un errore Chiamatelo Come volete Ma per me È stata la dimostrazione Che Dio È fedele E che Dio Risponde Alle nostre preghiere Quando noi Anche realizziamo La nostra Posizione In Cristo E agiamo Nel suo nome Ed è quello Che ci dice Marco 16 Versetto 17 Questi sono I segni Che accompagneranno Coloro Che avranno Creduto Nel mio nome Caceranno I demoni Anzitutto La nostra Autorità È un'autorità È un'autorità Spirituale Nel mondo Dello spirito E sapete che Anche nel nostro Millennio Nel 2018 Non pensate che I demoni Non siano In opera Che era solo Al tempo di Gesù Che c'erano i posseduti Ci sono ancora oggi Sono ben nascosti E poi E poi molto facilmente Si attribuisce A dei problemi Psicologici Psichiatrici E in tanti casi Ci sono dei problemi Spirituali Delle influenze Malefiche E Dio ha dato a noi Questa autorità Spirituale Di agire Nel mondo Dello spirito E cacciare i demoni Liberare le persone Che soffrono E poi Parla di Prendere in mano Serpenti Non lo fate Non ve lo consiglio O di bere Delle cose Che non sono buone Ma poi dice Imporranno Le mani Ai malati Ed essi Guariranno Questa è la nostra posizione Io penso che è importante Che cominciamo a entrare In questa nuova dimensione E che ci muoviamo E che agiamo Maggiormente A questo livello Vedo che il tempo vola Arriviamo alla terza Verità Che riguarda Il nostro futuro Ringraziando con gioia Il padre Che vi ha messo In grado Di partecipare Alla sorte Dei santi Nella luce La nostra sorte Il nostro futuro Il nostro destino Dio ci ha salvati Dal passato tenebroso Ci ha messi In una nuova posizione Posizione spirituale Di autorità Ma c'è Un futuro Glorioso Che ci aspetta La versione tedesca Parla Di Della nostra Parte di eredità Con i santi Nella luce E noi Siamo stati Resi Capaci Siamo in grado Di partecipare Di essere Parte Del glorioso futuro Che Dio ha preparato Per noi Siamo stati Messi In grado Di partecipare All'eredità Dei santi C'è un'eredità Che aspetta Tutti i figli Di Dio Romani 8 17 Se siamo figli Siamo anche Eredi Eredi di Dio E coeredi Di Cristo Dunque Se tu sei un figlio Di Dio Sei un erede Della gloria Dell'eredità Celeste Che Dio ha preparato Per te Per noi Qual è questa nostra Eredità È solo il futuro La gloria Che ci aspetta L'eternità Ma se leggiamo La scrittura Ci rendiamo conto In fondo Che questa eredità È già Al presente È presente Oggi Il salmo 119 Che è un inno Alla legge Di Dio Alla parola Di Dio È il salmo Più lungo È vero Ma è meraviglioso E qui il salmista Dice Nel versetto 111 Le tue testimonianze Sono La mia Eredità Per sempre E in fondo Raggiunge Quello che Gesù disse Il cielo E la terra Passeranno Ma le mie parole Non passeranno Già mai La parola di Dio È una parola Eterna E dunque Quest'eredità L'abbiamo Già Adesso Possiamo Vivere Di questa Eredità Delle promesse Di Dio Delle ricchezze Che Dio Mette A nostra Disposizione Oppure Il salmo 16 Ci dice Il Signore Il Signore È la mia Parte Di eredità È il mio calice La sorte Che mi hai assegnato Sono luoghi deliziosi Una bella Eredità Mi è toccata Dio stesso È la nostra Eredità E Lui Abita già In noi Abbiamo ricevuto La caparra La pienezza Lo vedremo Lo vivremo Un giorno Ma viviamo Già con Quest'eredità Dio In te Dio In me Dio In noi E poi Lo Spirito Santo È anche La nostra Eredità Se leggiamo Giovanni 14 16 Gesù dice Io pregherò il Padre Ed Egli vi darà Un altro Consolatore Perché Sia Sempre Con voi Sempre Cosa vuol dire? Vuol dire Sempre Ciò vuol dire Che già Adesso Lo Spirito Di Dio Abita in noi E quella È la nostra Eredità È il nostro Consolatore È la nostra Guida E poi Potremmo aggiungere Tante altre cose Ma voglio Fermarmi qui La mia domanda è Siamo noi Coscienti Del nostro Nuovo rango Della nostra Nuova posizione In Cristo Non dimentichiamo Da dove Veniamo Qual è stato Il nostro Passato E da che cosa Dal fango Che siamo stati Tirati su Non dimentichiamo Quello Siamo riconoscente Dio E incominciamo A vivere In questa Pienezza Dei figli Della luce E che vivono Già Quest'eredità Oggi E la pienezza La vivremo Un giorno Egli ci ha Liberati Dal potere Delle tenebre E ci ha Trasportati Nel regno Del suo Amato Figliuolo Amen Vogliamo ringraziare Il Signore Posso chiedervi Gentilmente Di alzarvi Vogliamo dirti Grazie Signore Per la Tua Parola Per le ricchezze Che sono le nostre Per la nuova posizione Che abbiamo acquisito Grazie al perdono Dei nostri peccati Grazie al Tuo Intervento Alla Tua Morte Alla Tua Risurrezione Grazie per questa Grande salvezza Una salvezza Straordinaria Che ha dimensioni Eterne Ti lottiamo Signore Vogliamo vivere Con Te Vogliamo vivere Per Te E desidero Signore Che Tu possa Servirti Di ognuno Di noi Tu ci incoraggi Ci fai del bene Tu non sei Assente Tu sei presente E operante E vogliamo agire Con Te Signore Nel Tuo nome E per la Tua Gloria Diamo l'odio Al Te Signore Amen Amen Potete accomodarvi Grazie Grazie a tutti